Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof.Betti oggi parleremo di un elemento centrale per quanto riguarda educazione civica in particolare per quella di terza infatti parleremo del funzionamento dello Stato italiano ed in particolare del funzionamento del Parlamento come sempre preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione prima di parlare nello specifico del Parlamento di come funziona e di come è strutturato andiamo a vedere innanzitutto la struttura dello Stato italiano come ho detto anche nella lezione precedente l'ordinamento della Repubblica, cioè il suo funzionamento si trova nella parte seconda della Costituzione che sono gli articoli tra il 55 e il 139 quindi dopo i principi fondamentali e dopo i diritti e i doveri dei cittadini e in pratica la struttura dello Stato italiano si basa su questi cinque pilastri definiamoli così che sono il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura e la Corte Costituzionale nelle prossime elezioni andremo ad affrontare gli altri elementi quindi Presidente della Repubblica, Governo e Magistratura oggi ci concentreremo in particolare sul Parlamento e sul suo ruolo cosa dire del Parlamento? intanto il Parlamento è il luogo in cui assede la funzione legislativa cioè quella di scrivere le leggi noi sappiamo che il potere dello Stato si divide in legislativo, scrittura delle leggi esecutivo, cioè rende esecutive le leggi scritte e poi il giudiziario bene, il Parlamento ha quindi questa funzione quella di scrivere le leggi un altro motivo per cui il Parlamento è molto importante oltre alla sua funzione è il fatto che è l'unico organo direttamente eletto dai cittadini vi ho scritto tra parentesi solitamente ogni cinque anni infatti sia il Governo che il Presidente della Repubblica non sono eletti direttamente dal popolo il popolo quando va a votare alle elezioni nazionali va a votare per i parlamentari perché infatti il Governo viene votato, si dice, indirettamente vi ho scritto che il Parlamento viene votato solitamente ogni cinque anni questo perché una legislatura, cioè una durata di Parlamento se va avanti tranquillamente, senza scossoni politici, diciamo dura cinque anni se entra una crisi di Governo per cui il Parlamento non riesce più ad approvare leggi e non riesce più a sostenere nessun tipo di Governo allora si decide di tornare al voto e quindi si può interrompere anche prima dei cinque anni che sarebbe invece la scadenza naturale ovviamente è fondamentale dire che il Parlamento si divide in due assemblee la Camera di Montecitorio che si trova appunto nel Palazzo di Montecitorio e il Senato che invece si trova a Palazzo Matama i senatori sono 200 con la nuova riforma che entrerà in vigore a brevissimo i senatori sono 200 mentre i deputati della Camera sono 400 a parte questa differenza di persone in realtà le due Camere hanno gli stessi compiti e gli stessi poteri per questo motivo lo Stato italiano è definito uno Stato di bicameralismo perfetto cioè con due Camere, bicameralismo, perfetto perché entrambe le Camere fanno le stesse cose esiste per esempio anche il bicameralismo imperfetto cioè con due Camere che però hanno compiti diversi quindi fanno cose diverse oppure addirittura il monocameralismo con una Camera sola l'Italia ha un bicameralismo perfetto tra le differenze oltre al fatto appunto che i deputati sono 400 e i senatori sono 200 riguardano, vi ho scritto, gli elettori perché alla Camera possono votare tutti i maggiorenni mentre al Senato tutti coloro che hanno compiuto 25 anni quindi chi ha tra i 18 e i 25 vota solo per la Camera chi ha più di 25 vota sia alla Camera che al Senato il numero di componenti appunto e poi il fatto che in Senato ci sono i senatori a vita cioè gente che non è stata eletta ma è stata messa lì a vita per diverse motivazioni alcuni senatori a vita sono gli ex Presidenti della Repubblica tutti coloro che hanno fatto il Presidente della Repubblica finito di essere Presidenti diventano senatori a vita e poi ci sono delle personalità che possono essere nominate i senatori a vita perché hanno meritato particolarmente, si sono distinte e quindi come premio possono ricevere questa cosa di senatori a vita un esempio attuale per esempio è quello di Liliana Segre altre informazioni sul Parlamento come vi ho detto anche prima i parlamentari si dividono in deputati che sono quelli che vanno alla Camera, che sono stati eletti alla Camera e i senatori che invece si trovano al Senato tutti i deputati e senatori godono di un'indennità cioè in pratica di uno stipendio infatti in teoria il politico non dovrebbe essere un lavoro da fare a lungo teoricamente ci si presta alla politica cioè la gente fa altri lavori e per un po' decide di smettere di fare il proprio lavoro per andare a fare il politico quindi chiaramente si dà un'indennità a queste persone così che tutti lo possano fare e non soltanto magari i più ricchi oltre a questo i parlamentari godono di una immunità parlamentare cioè non possono essere sottoposti a processo durante il loro mandato finché sono in Parlamento l'unico modo per processare un parlamentare è fare richiesta alla Camera o al Senato dipende se è un deputato o un senatore e la Camera o il Senato deve dare il nulla osta per procedere con il processo altrimenti non si può processare un deputato o un senatore mentre è in carica poi quando decade cioè quando non è più in carica a quel punto si può processare tranquillamente come vi dicevo prima i cittadini votano direttamente il Parlamento e quando vanno a votare utilizzano il sistema di partiti quindi votano per un partito a volte si può indicare i nomi di chi si vuole mandare direttamente altre volte invece si barra semplicemente sulla scheda del partito che si vuole votare e poi è il partito a mandare diciamo chi vuole lui e il sistema elettorale cambia molto spesso c'è sempre molte discussioni sul sistema elettorale e vi ho scritto può variare ma le due grandi famiglie sono quelle con il sistema si dice maggioritario dove cioè chi vince ha vinto prende tutti i voti lui praticamente nel senso che ci sono per esempio tre candidati uno del PD uno dei 5 Stelle uno della Lega per esempio vince il candidato dei 5 Stelle e prende tutto il voto lui cioè non si va a vedere le percentuali mentre il proporzionale si va a vedere in percentuale quanto hanno preso i vari partiti e si dà in base ad una proporzione in questo momento in Italia c'è un sistema misto cioè un po' maggioritario e un po' proporzionale però come vi ho detto cambia spesso andiamo a vedere adesso come nasce una legge i passaggi sono tendenzialmente 5 si ha all'inizio l'iniziativa legislativa poi esame e approvazione e infine promulgazione e pubblicazione l'iniziativa legislativa tendenzialmente ce l'hanno tutti proprio tutti i cittadini italiani adesso vediamo perché intanto possono iniziare una legge tutti i deputati e i senatori chiaramente e questo era scontato poi anche il governo può proporre una propria legge al Parlamento senza problemi come vi dicevo anche tutti i cittadini italiani lo possono fare infatti se io voglio che venga scritta una nuova legge e trovo 50.000 persone che firmano questa legge insieme a me posso andare io direttamente in Parlamento a chiedere che il Parlamento scriva questa legge poi in materia di economia il CNEL che è un organismo appunto che riguarda l'economia e poi anche i consigli delle varie regioni quindi tutti i consigli regionali possono chiedere di scrivere una legge per qualche motivo come funziona poi l'iter? diciamo che ci sono delle commissioni che si occupano di scrivere per bene la legge e poi le procedure possono essere diverse ci può essere la procedura ordinaria che è quella diciamo più classica e poi c'è la procedura in sede redigente e quella in sede legislativa visto che non sono semplicissime ve le spiego meglio in classe e non mi dilungo troppo nel video altrimenti ci sto veramente molto tempo però insomma queste sono le tre strade che possono prendere la cosa importante da ricordare è che sia la Camera che il Senato devono approvare lo stesso testo legislativo quindi una volta che la Camera ha approvato il testo e anche il Senato ha approvato lo stesso testo si va alla fase successiva che è la promulgazione a questo punto il Presidente della Repubblica legge la legge appunto che è stata scritta in Parlamento se è d'accordo con questa legge la firma e quindi si dice la promulga dopodì viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale che è un sito e anche un giornale tra l'altro e una volta entrato in Gazzetta Ufficiale dopo due settimane dall'entrata in Gazzetta Ufficiale la legge diventa effettiva il Presidente della Repubblica però può anche non firmare questa legge perché magari non gli piace per qualche motivo perché va contro la Costituzione perché non è convinto insomma per qualsiasi motivo può non firmarla allora questa legge torna di nuovo alla Camera e al Senato che possono o modificarla per andare in conto a quello che ha chiesto il Presidente della Repubblica oppure rimandarla così com'è se la rimandano uguale identica il Presidente della Repubblica è costretto a quel punto a firmarla bene, come sempre spero che questa video lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe grazie 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 grazie